Spero che ci sia da prendere un elicottero, forse, boh Ah, ho dovuto toccarlo, sì, tipo, gli ho dovuto bussare sulla spalla, ho capito Che bel glitch Ok ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo qua ancora sulla coda di i piani dell'architetto Per scegliere il piano B di questo colpo alla bureau Questo qua è quello che ci aveva chiesto il lavoretto quando gli si fece esplodere il telefono in faccia A me voglio un hacker esperto E anche qua voglio un tiratore esperto perché questo tipo di approccio è molto più difficile rispetto a quell'altro Vabbè, guidatore Eh, per forza Stessa cazzin E va bene, ce ne andiamo con Michael E' fatto sempre 100% anche se qua la fuga è stata di 11 secondi in più E a questo punto dovrebbe uscirci qualcosina Per fare questo colpo Nel frattempo qua c'è uno Santos Custom Ne approfitto per migliorare un po' l'auto Perché non si apre questo stronzo? Apri Oh What brings you it today? I'll put it like this It ain't gonna rock, okay? Is that screen real? Yeah Um Beh, lo sto blu così opaco Ci sta I aromatici rossi ci sta benissimo Anzi arancioni Sto spendendo un casino Ok La macchina di Michael è a posto E qua come romba Ah, questo È il rumore perfetto A questo punto è Switch of Franklin Almeno io posso andare a salvare Trevor è fuori da giochi in questo momento Quindi Neanche A disturbarlo E allora Io salvo Provo a far passare il tempo E vedo quello che succede Ah Ok Posto Siamo pronti Lester Perfetto 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 E allora Però Prima Non lo so Non lo so Salvo lo stesso Ma Bella così Ma che tramonto All'altra siamo Già sul finale Del tramonto Ma dettagli Va bene Non c'è da fare Nessuna Preparazione Il che A me Sta anche bene così Perché Meno fatica Non c'è da fare Adesso sì Passo prima io Capito C'ho la macchina più bella Ce l'ho più grosso Oddio beh Franklin In effetti sì Non gli si può dire nulla Grazie abilità Che bello che questa abilità Praticamente frena le altre macchine Però è anche Tipo Super incontrollabile La macchina Quando è al massimo Di la velocità Ok ci arriviamo Così Va bene Irruzione Al biuro Metodo B Quello violento Come si vende l'estere Ovvio che è la sua parte Poi Però Vediamo che è anche Abbastanza disponibile Dai Comunque Raggiungiamo L'edificio governativo Posso guidare La macchina di Michael Yes Fighissimo Guidare la macchina Di Michael Con Franklin Agenda Steve Set up a base Of operations At the noose building Off the Palomino Freeway All right Now let's roll On this thing Why are you so Chipper Say why are you So miserable Must be an H thing Great Now there's something To look forward to What's the plan Again man And please Let it involve Someone shoot you For being so God damn miserable What is this Pick on me day Look I know I'm a miserable Frick But give me a break You and Lester Shit No Man was feeling sorry For your ass right I miss Lester Saying that shit But sure Let's feel sorry For Michael Rich White Michael Poor Michael Who robbed banks For 10 years Then got his slate Wipe clean Yeah Poor Michael Whose homies Get in the shit With the FIB Out of the kindness Of their own heart Put their necks On the line Man where's my Get out of jail Free car Motherfucker I'm sorry Okay You know what Mike You're a real easy dude To identify with man For me For me Man pour me a drink Nigga Okay Povero stacetto Io ragazzi Quando leggo i sottotitoli Faccio sempre incidenti Perché muoio Letteralmente ragazzi Cioè Escono di quelle cose Dei sottotitoli Che voi proprio Non ne Potete Neanche avere Una mezza idea E non tanto GTA 5 Che comunque Si dà molto da fare GTA 4 GTA 4 i sottotitoli Ragazzi Sono qualcosa di Incredibile Ho paura che non si può sentare qui Ah invece si Ci alzano la sbarra Grazie Ma non è forza un puto Verò Ah no Sono il laboratorio Dei new man Questo Spero che ci sia da prendere Un elicottero Forse Boh Ah Ho dovuto toccarlo Sì Tipo Gli ho dovuto bussare Sulla spalla Ho capito Che bel glitch Timlapse Forse sì Forse no Non si sa I'll take over Once you jump I'm gonna take us up to the jump spot Perché mi inquadri dall'alto Brutta merda Quanto odio O Spogliato strada Dove andare Più in alto di così Aiuto non ricordo Un lapsus Ok Ok Niamo Che brutto raga Che non si possa controllare la caduta Come si poteva fare a GTA 4 ad esempio E tu potevi Direzionarti Impicchiata Destra o sinistra Comunque Portarti molto vicino al punto d'atterraggio Poi aprire il paracaduto all'ultimo Qua invece Proprio va dritto per dritto Eh buon per te Eh buon per te Aspetta arrivo Dovremo farci Dovremo farci Dovremo farci tranquillamente Ok Ok Allora A regola ce l'abbiamo fatta Perché qua c'è una scaletta Mi ha perso un po' di vita però Quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto È che è difficile controllare l'ultimo E non puoi Scendere Praticamente Spingendo il pad Perché casca di faccia e muore Proprio ve lo dico Succede questo Ma è abbastanza buio Qua serve il passo Per forza Eh qua Saranno alertati tutti Yeah no shit Explosione Tendere I'm looking at the terminal The programs are on your cell phone Connected to the machine They better be You need to access my computer Your cell will show as an external device First run HackConnect It'll establish a connection with the servers Concentrate You gotta find this terminal's IP in the network's view 79 That number at the top In the massive numbers in the middle 47 secondi per il Oh cazzo 79 Eccolo Ah Velocissimo Dio mio Dai 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 Yes Ok Looks like we're in Good work Start down and out .exe And I'll do the rest from here Due minuti Ok people We're rewriting history Security team's been deployed You hear that? We gotta hold them up Potevamo fare meglio Però ok Ah proprio guerriglia così Come dico sempre Guerriglia guerrita Per fortuna si possono Buccare le finestre Sinceramente pulire i pavimenti Lo sto rivalutando Lo sto rivalutando eh Ah Ma è lento Sto facendo un casino di colpe da testa però Oh no Addio elicottero Goodbye forever E' stato bello così Buttati 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 Quanto è? Dai ci siamo Ci siamo Dovrebbe mancare tanto Yeah Go ahead The helicrash costa extensive damage Explosion went through a couple floors Sprickler has brought the fire under control But be extremely careful Bello la testa nel mezzo del fumo è bellissimo Dai 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo Ci siamo Il file di Michael stanno per essere cancellati Adesso comincia divertimento Adesso comincia divertimento Where are you going? Faccio a prima Testa Due teste di fila Buono Buono Un'altra testa che parte. Bravi. Oh, dei compagni utili. Il gatto che fa casino, ok. Testa. 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 Non testa. Cazzo, c'è la saluta e passa a Franklin. Via, 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 via. Ecco, adesso non ce l'ha fatta davvero. Dritto per dritto. L'ho ucciso io. L'ho ucciso io. Via tutti, fuori tutti. Pietà per nessuno. Mi hanno resettato la salute, che bello. Finisco io. Finisco io, lo finisco io. Testa. Hey, let's move. Mi è anche già riandata giù. C'è un altro fucile? No. Vabbè, questo potrebbe essere buono. Vabbè, ti mando avanti io? Ok. Vabbè, non siamo durati tanto. Nello scendere i piani. Fammi cambiare. È per forza. Ma non fa caldo. Non ti soffoca lì. Ma non fa caldo. Non ti soffoca lì. No, giù, 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 giù con il quadrato. Cazzo, ci stanno circondando. Noi siamo più forti di loro. Noi siamo più forti. Noi siamo più forti. Noi siamo più forti. Bene. Il tiratore è andato fuori. Ok, adesso anche il pilota. Perfetto. Allora, è l'edificio più alto della città, quindi. È ovvio che ci sia tanto, tanto, tanto da scalare. Eh, non so facile. Merda. La ricarica. Dai. La sparatoria è ineccepibile, però. Grandissimo, con l'ambulanza. Fenomeno. Fenomeno indiscusso, proprio. Beh, non c'è mezzo migliore per fare la fuga. Bello è che se ci stanno ancora cercando, non ci troveranno mai. Pensano che siamo ancora là. Si sta guidando. Michael, vero? Si. 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 se si è chiaro, potrei dire che non ho mai aspettato di farlo sì, sicuramente, abbiamo preso oh, davvero? era preso? uh, sì, Lester aveva il plan, era tutto set up sì, abbiamo preso un plan prendere la squadra più brutta FIB agenti nel mondo mentre l'ultimo di Baby Boomers pretende che è un hacker? come on era spero e poi quando il chopper si è riuscito? oh, man non c'è nessun modo no, non c'è nessuno perché credi che Lester abbia la scuola? perché credi che stai facendo per nulla? e questi bambini sono stati pagati? ho ho una vita per mantenere cari, hollandati, hollandati, hollandati so cosa se il mio telefono non c'è il tempo? avere un telefono non c'è il tuo telefono non c'è quello che prendere 12 grand tu non puoi migraggare i miei passions non era la mia intenzione di ingraggare tu cosa, c'è questo, Kareme il mio posto è qui tu pensi che puoi dispostare il veicolo e lo tirarlo in un'altra parte? penso che vada distrutto il veicolo o forse no però anche può darsi che Michael si fermi a casa di Franklin potresti anche spegnere le sirene, eh Lester grazie Oh, Jesus. Any longer than I was going to torch this place, too. Hey, you did it! We did it! Yeah! Fucking A! Hey, where's my liquor at, dawg? I got it. It's right here. Let's go, let's go. Come on. Here it is. There you go. Man, you may be a conflicting, hypocritical, self-loafing old bastard, dawg, but if there's no one else, I'd rather rob a federal building with me. Amen to that. Thank you, boys. Cheers. Cheers. So, you want another drink? I think I better stay at least a little bit sober. I got to deal with Davey and Dickwad yet. Put things to bed. Man, you want me to roll with you, dawg? No, no. I'd probably better do this alone. I mean, we did everything. We're all in this together, right? So as long as we all are not together, there's nothing they can really do to us. All right, see you, dawg. Take care. Man, it's Trevor, and I'm out. No, we're going to need Trevor. Maybe you should give him a call now. Oh, fuck that. After I take care of this shit. All right, all right, we'll take care of yourself. Breaking! Leicester! Leicester needs a drink! Quelli stupidi federali, irruzione al bureau, completato. Okay, ragazzi, io vi saluto. Like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo alla prossima, che proseguiremo la nostra storia, perché proseguiremo esattamente, ve lo dico subito, con dovrebbe esserci la resa dei conti, o al massimo la ballata di Rocco. Grazie, ragazzi. Dadene tutto, un bacione. Saluto. Ciao a tutti. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly, it doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office, we really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. E qua, ragazzi, ho dovuto fare questo inciso in più, ragazzi, perché c'è stata questa telefonata molto importante e dopo la fine ve l'ho messa.